E' stato trovato il cadavere di Pasquale Vitiello che ieri ha sparato e ucciso la moglie, Imma Villani, di 31 anni, a Terzigno nel Napoletano. La donna aveva appena accompagnato a scuola la figlia. Il corpo del uomo è stato trovato in un rudere circondato da vegetazione poco distante dal luogo dell'omicidio. I due si stavano separando. La donna aveva denunciato il marito lo scorso 4 marzo dopo una lite violente ed era andata a vivere a casa del padre.